benvenuti amici vapers benvenuti canale youtube alli svapo ed io sono mister nino tata trattino basso tnt nuovi liquidi ti svapo so fico ovvero i frutti estivi in un eliquid questo liquido si presenta con un tipo da spiaggia praticamente come me che con la maglietta rossa se vado spiaggia mi chiamano bagnino ma perché c'è scritto sarvataggio però detto questo il vero fico è il ragazzo rappresentato nella confezione abbiamo lo stesso liquido in due differenti versioni ovvero la versione normale la versione ghiacciata che liquido è abbiamo fico d'india pera williams e cocco caraibico in due versioni differenti perché una sarà normale l'altra sarà versione estiva versione ice quindi versione fresca con ghiaccio partiamo subito da uno scomposto da 20 ml dove andremo aggiungere 30 ml di glicerina e booster in a piacere agitate lasciate riposare almeno 48 ore ed il liquido è pronto il liquido si presenza di un colore abbastanza chiaro e all'odore si sente la presenza della pera williams e del figo il primo il soffico lo vado a svapare in cloud su una reload vapor dual battery mosfettati mosfettata sopra ho un kennedy 25 con cappi nuttel amici miei la frutta che esce si sente principale la pera williams avete presente una pera la pera williams quella verde matura che quando la capate è ricca di succo e polposa che quando prendete uno spicchio rischia che vegate dalle mani talmente è intrinseca di succo e di sapore bene esce così quindi abbiamo una pera williams subito dopo viene raggiunta dal sapore del figo d'india quindi il sapore di questi due frutti è predominante nelle liquid per è figo senza dubbio cioè sono due sapori che si riescono a distinguere bene l'uno dall'altro la presenza invece del cocco caraibico ahimè non la percepisco o è una nota una sfumatura talmente leggera ma io non riesco a percepirla questo era il soffico versione normale adesso andiamo a provare la versione ghiacciata ovvero la versione ghiacciata si presenta sempre con 20 ml di aroma scomposto 30 ml di glicerina essendo già ghiacciato potete aggiungere o la basetta a 0 nicotina o a vostro piacere da 9 per portare a 1 e mezzo tutti 60 ml nicotina 18 per portare a 3 tutti i 60 ml conoscendo il liquido e siccome che so che è ghiacciato invece di andarlo a scaldare tanto quindi su un atomizzatore da cloud ho voluto utilizzare quindi un adali sempre con cap in ultime coil complessa a cura delle coil del maniscalco e vi dico come esce fresco leggermente fresco fresco o ghiacciato che ti arriva in testa allora anche se i liquidi sono gli stessi il liquido con ice cambia notevolmente la percezione del ghiaccio è presente è importante e si sente ad ogni svapata quindi andrei ad escludere categoricamente il liquido categoria leggermente fresco perché è un ghiacciato di quelli importanti il ghiacciato che se vi piace ad ogni svapata percepire quindi quell'ondata di freschezza proprio in gola amici miei il soffico fresco allora potrebbe essere il liquido che fa per voi la percentuale immessa di ghiaccio va a coprire i sapori fruttati leggermente quindi rimane la pera il figo d'india e anche qui come nella versione precedente ahimè il cocco non riesco a percepirlo quindi ricapitolando abbiamo due liquidi due liquidi estivi sono i nuovi liquidi di svapo soffico e soffico fresco detto questo amici miei l'estate è iniziata scegliete il vostro gusto e svapate con piacere queste nuove novità di svapo detto questo amici miei lasciate un like se il video vi è piaciuto commentate il video e ditemi cosa ne pensate di questo binomio di due sapori tra figo d'india e pera williams che secondo me hanno veramente bilanciato con grande maestria questi due sapori io di mio quindi vi dico preferisco la versione non ghiacciata perché come dichiarato in ogni mia recensione non amo i ghiacciati tendenzialmente leggermente freschi quindi hanno dato la possibilità di scelta un liquido fruttato lo stesso liquido ghiacciato mi trovate anche su instagram basta fare una ricerca tata e scrivere all'islamo lasciato un like sulla mia pagina facebook io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questo video vi invito pertanto a rimanere sul canale per la prossima recensione saluto tutti quanti ciao mister nino tata ciao